Stasera il PD trevigiano ratifica i nomi in corsa nella marca per le regionali di maggio. Gran parte dei nomi sono arrivati da tempo dai circoli alla segreteria provinciale. Volti nuovi e vecchie conoscenze della politica comunale e provinciale, che si contendono nove posti in corsa per Venezia. Metà uomini e metà donne verranno scelti sui 35 nomi giunti da 72 consultazioni dei circoli trevigiani, dove si sono espressi, di media, metà degli iscritti al PD. Una dozzina i nomi che ricorrono con maggior frequenza. Treviso Giovanni Tonella, consigliere comunale, così come Michela Nieri, mentre della provincia, conferme per Andrea Zanoni, ex parlamentare europeo dell'Italia dei Valori, o l'ex sindaco di Godega Sant'Ambrogio. O ancora, data prefavorita, l'ex sindaco e ora consigliere provinciale Daniela Marzullo, o la stessa segretaria provinciale del PD Lorena Andretta. Il mio nome è uscito dai circoli grazie anche probabilmente al lavoro fatto in questo anno e mezzo di segreteria provinciale. Nomi tutt'altro che definitivi per unitere ancora a lungo. Adesso la segreteria farà la sintesi politica, come è giusto che sia, e poi la sottoporrà all'assemblea, l'assemblea provinciale, che la ratificherà, e poi ci sarà un ulteriore passaggio in direzione regionale per la conferma definitiva.